Ancor prima di iniziare la quinta stagione, i creatori di Rick and Morty hanno già le idee chiare sul futuro della serie animata. Lo staff di produzione ha infatti annunciato in queste ore importanti novità sulle prossime stagioni dello show. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Attraverso un post su Instagram, il creatore di Rick and Morty, Dan Harmon, ha confermato i lavori per la sesta stagione. L'immagine in realtà riguarda la sceneggiatura di un episodio di Community, ma basta arrivare alla fine del messaggio per trovare una sorpresa decisamente gradita. Le righe infatti recitano la seguente frase. Un altro piccolo magico dettaglio sulla giornata di oggi, l'episodio che stiamo leggendo è stato scritto dall'autore di Community e Rick and Morty Alex Rubens, che è tornato al lavoro sulla sesta stagione. La notizia è quindi ufficiale, Rick and Morty stagione 6 è in via di concepimento, nella speranza che l'attesa non si allunga quanto quelle a cui ci ha abituato finora. Voi cosa ne pensate? Siete contenti di questa conferma per l'amatissima serie animata? Diteci la vostra nell'area dedicata ai commenti e ricordate di iscrivervi al canale di Every Eye Plus per rimanere sempre aggiornati su tutte le ultime novità dal mondo delle serie tv, del cinema e dell'animazione.